Capitolo 18 Annabeth conquista tutti con una tisana. Avrei voluto che Elisso si decidesse, che mi tirasse fuori dall'acqua, che mi trascinasse nell'acqua, che mi annientasse con il sarcasmo. Aveva talmente tanti modi interessanti per uccidermi che non riusciva a scegliere. Per intenderci, non è facile affogare uno come me, ma quando un dio del fiume ti sbatacchia in fondo alla sua grotta e ti scarica porcherie nelle narici e in bocca, è come tentare di respirare in una tempesta di sabbia. Accecato e disorientato, sbattevo contro le rocce senza riuscire a concentrarmi. E questo mi fece arrabbiare. I poteri dei semidei possono essere strani. Quando avevo dieci o undici anni, le cose accadevano e basta, e io non capivo perché. Le fontane prendevano vita, i gabinetti esplodevano, controllavo l'acqua distinto, solo quando ero impaurito o arrabbiato. Un po' tipo Hulk, ma con le condutture. Crescendo, ho imparato a dominare i miei poteri, più o meno. Adesso posso far esplodere a comando gli irrigatori a pioggia. Ehi ragazzi, sono disponibile per le vostre feste di compleanno. Chiamatemi. Ma sebbene sia più bravo a controllarmi, ci sono ancora momenti in cui i poteri mi sfuggono. È un po' come quando pensi, oh, sono troppo maturo per piangere come un bambino. E poi vedi un film su un cucciolotto che si perde e cominci a frignare. O quando pensi che sei in grado di tenere a freno la tua irascibilità, poi prendi un brutto voto, fai una bizza di livello mondiale e il tuo skateboard finisce per spuntare dalla parete di camera tua, infilzando il tuo poster preferito di Jimi Hendrix. Sono esempi puramente ipotetici. Ovvio. Comunque è ciò che accadde in fondo alla piscina di Ilisso. Mentre venivo sbatacchiato, ribaltato e sbattuto come un bucato in una centrifuga alla massima velocità, il mio autocontrollo si sgretolò. Ero di nuovo un ragazzino impaurito che urlava al mondo brutto e cattivo di lasciarlo in pace. La mia rabbia esplose. E così fece il fiume. Con un gran fragore scoppiò in ogni direzione allontanandosi da me e facendomi ritrovare al punto zero della detonazione, rannicchiato tutto solo in una bolla d'aria, a ululare così forte che riuscivo a sentirmi perfino sopra il ruggito del torrente. Una parte di me si era spinta al di fuori, raggiungendo non solo l'esterno della piscina, ma la sorgente del fiume, il profondo degli inferi o forse di Yonkers, e li aveva divelti alle radici. Milioni di tonnellate d'acqua ruggivano nella grotta, allagando la piscina, erodendo le scogliere, sollevandosi sopra gli argini e probabilmente cogliendo alla sprovvista un intero branco di serpenti che facevano il bagno a balle. Alla fine, l'acqua si schiantò di nuovo intorno a me, riprendendo il flusso normale. Stordito e terrorizzato da quello che avevo fatto, tremavo. Non so quanto mi ci volle a riprendermi. Secondi? Minuti? Mentre il limo spariva, alzai gli occhi con un solo pensiero in testa. Annabeth. Se l'avessi accidentalmente spedita nell'Atlantico, non me lo sarei mai perdonato. Schizzai in superficie. Non avrei dovuto preoccuparmi. Sulla cengia in alto, seduta con le caviglie incrociate, Annabeth parlava tranquillamente con uno spaventatissimo ilisso. Il dio del fiume, tremante e coperto di limo, era appoggiato a lei come un rifugiato sotto shock. Aveva lo scignon disfatto e i capelli ad esso sembravano una pianta di yucca moribonda. Io non ne avevo idea, disse il dio tirando su con il naso. Forza, dai! Annabeth gli cinse le spalle con un braccio. È tutto a posto. Persi può essere spaventoso quando si altera. Galleggiavo nella piscina, domandandomi se fossi emerso in una qualche dimensione alternativa. Annabeth stava consolando il tizio che aveva appena tentato di affogarmi e definiva me spaventoso. Poi guardò in basso e mi fece l'occhiolino. Un segnale che voleva dire, stai al gioco. Devi ammettere però che Persi ha fatto un lavoro fantastico, fece notare a Elisso. Un lavoro fantastico? Mi domandai. Ma di che cosa sta parlando? Nell'acqua la ferita alla testa sembrava essersi cicatrizzata, quindi probabilmente non avevo le allucinazioni. Poi scrutai la grotta. L'ondata di maremoto aveva spazzato le pareti delle scogliere fino ai piedi di Annabeth, lasciando la roccia splendente. Adesso che il sedimento si era depositato di nuovo, la piscina era ancora più limpida di prima. Con quell'odore da fiume rivitalizzato, l'aria era fresca e frizzante. La corrente fluiva più forte e più fredda, scorrendo impetuosa nella grotta con un clamore festoso, come un pubblico sguinzagliato per le strade dopo un grande spettacolo. A quanto pareva, avevo dato al fiume Ilisso il pacchetto extra lusso del lavaggio alla Poseidone, con tanto di triplo shampoo, trattamento antiruggine del telaio e cera super brillante. Mi guardai intorno cercando il bastone degli arcobaleni. Non lo vedevo. Fortunato com'ero, lo avevo probabilmente spedito a Harlem. Annabeth stava ancora consolando Ilisso, dandogli pacche affettuose sulla spalla. Quando incrociai il suo sguardo, mi indicò qualcosa con il mento, suggerendomi di guardare a balle, ma io continuavo a non vedere niente. Ilisso fu scosso da un brivido. Non sapevo che la mia acqua avesse così tanta pressione. Adesso la corrente è davvero fantastica, commentò Annabeth. Dovrebbe essere utile per il tuo corso di vinyasa yoga. Dici? Assolutamente sì. E non ho mai visto un fiume più pulito. Se però trovi qualche punto che è sfuggito a Persi, sono sicura che potrebbe... No! strellò Ilisso. No, è meraviglioso. Pronunciò meraviglioso come se significasse estremamente doloroso. Scusa, mi lasciai sfuggire. Non riuscivo a credere che mi stavo scusando per essermi salvato da un tizio che aveva tentato di uccidermi, ma mi dispiaceva per lui. Mi sono lasciato un po' trascinare. Il dio sussultò. No, no, sono stato io a chiederti se potevi pulire il fiume. E tu l'hai fatto. Così imparo a usare il sarcasmo. Una volta tanto non sembrava sarcastico. Annabeth indicò di nuovo a valle, come per dirmi... È là, babbeo. Stavolta lo vidi. A una decina di metri di distanza, il caduceo di Iride si era incastrato in una fessura appena sopra il livello dell'acqua. L'asta di quercia scintillava. L'elaborata piastra emanava una calda luce gialla, senza un briciolo di sporcizia sui disegni in bronzo celeste. E se non è un problema vado a... Indicai il caduceo. Ilisso evitò di incrociare il mio sguardo. Si limitò ad annuire. Ebbi la sensazione che avrebbe avuto la stessa reazione se gli avessi ordinato di consegnarmi il portafoglio. Wow, che persona terribile ero! Mentre nuotavo verso valle, udì una lieve musica a leggiare nell'aria. Il flauto di Grover da qualche parte in fondo alla caverna. Aveva abbandonato i Durandoran. Adesso stava suonando Help dei Beatles. Lo presi come un sottile messaggio che si stava stancando di guidare il corteo dei serpenti. Afferrai il caduceo di Iride e tornai a nuoto dai Lisso e Annabeth. Speravo che la mia ragazza mi lanciasse la corda e mi aiutasse a salire, ma sembrava che non avesse alcuna fretta di salutare il dio del fiume. Anzi, aveva tirato fuori il termo se gli stava versando una bevanda calda. Questa è un'ottima miscela di rosa canina e camomilla, gli spiegò. Ha un effetto calmante, vedrai. Ilisso sorseggiò la tisana. Squisita! Cosa sta succedendo? chiesi. Non mi aspettavo una risposta e meno male, visto che non la ricevetti. Quante volte al giorno la devo prendere? domandò Ilisso. Oh, proverai al mattino e alla sera, gli rispose Annabeth. E quando vuoi meditare? Tieni. Gli porse un paio di confezioni in più. Niente caffeina. Eviterai il tè verde. Ti rende ansioso. Suppongo che tu abbia ragione, sospirò il dio. Allora, a proposito della nuova programmazione, forse potremmo destinare un sabato sì e uno no alla pulizia degli oggetti sacri da parte di voi semi-dèi. Va bene? Più che bene, rispose Annabeth. Assolutamente, concordai. Però proprio adesso c'è un nostro amico inseguito dai serpenti. Annabeth corrugò la fronte, come se stessi rovinando un bel momento, ma Ilisso trangugiò la tisana e le restituì la tazza. Certo, andate a salvare il vostro amico. Buona fortuna, deglutin nervosamente. Se dicevi sul serio a proposito del corso di yoga per balene al palazzo di Poseidone. Oh, non scherzo mai su queste cose, lo rassicurai. Metterò una buona parola per te con mio padre. Ilisso si pulì il naso. Grazie, Percy Jackson. E tu, Annabeth Chase, sei stata gentilissima. Poi, afferrando le confezioni di tisana, Ilisso si liquefece e si riversò sopra il fianco della scogliera. Mi tolsi di mezzo perché non volevo essere annaffiato. Quando fui sicuro che se ne fosse andato, alzai gli occhi e guardai Annabeth. Hai portato le tisane? Mentre io vengo sballottato qui giù, tu ti metti a bere una tisana? Annabeth scrollò le spalle. Eudora ha detto che Ilisso era un patito di yoga. Ho pensato che una tisana potesse essere un regalo adatto. Lo disse come se il suo ragionamento non facesse una piega. Come ovviamente X uguale 2YZ al cubo, dove X è lo yoga e Y nella tisana. Certo, commentai. Hai nient'altro lì dentro che potrebbe aiutarci a salvare Grover? Bien sûr, confermò Annabeth, che credo fosse il francese perre. Che cosa credi, testa d'alghe? Tirò fuori dallo zaino una busta di carta e la scosse. Biscottini per serpenti? Il tipo del negozio mi ha consigliato il gusto criceto. Ho tantissime domande. Dovremmo darci una mossa, stiamo perdendo tempo. Sicura che non possiamo concederci un'altra tazza di meditation magic? Che ne dici di lanciarmi quella corda? Non serve. Annabeth si alzò. Nuota verso valle. Io diventerò invisibile. Estrasse il suo berretto magico dei New York Yankees, l'accessorio di moda che preferiva della collezione uscite gratis di prigione. Io vado a Est per trovare Grover, distraggo i serpenti con questi biscottini e lo porto in salvo. Mentre io mi dirigo a Ovest e mi offro come nuova esca, tirai a indovinare. Esatto, confermò Annabeth. Poi, quando i serpenti ti seguono, io e Grover torniamo indietro e ci troviamo tutti e tre all'ingresso della grotta. Ehm, dai anche a me dei frullini serpentini aromatizzati al criceto? Non ti serviranno. E come dovrei distrarli? E, cosa ancora più importante, come me ne libero una volta che ho attirato la loro attenzione? Perché sai, questi sono il tipo di dettagli che mi piace avere risolto in partenza. Dal sorriso di Annabeth capii che avrei detestato la sua risposta, tanto quanto detestavo essere spinto giù da una cengia. Hai il caduceo di Iride. Hai il compito più bello di tutti. Capitolo 19. Assaggio l'arcobaleno. È piuttosto cattivo. Adesso posso cancellare... Faccio同' Jones. La nostra scoperta è arrivata. Tornata è una grossa.